L'Università degli Studi di Roma Torvergata apre ai neolaureati le porte sul mondo, poiché offre una formazione internazionale. Lo spiega la professoressa Pattuglia al Forum delle Risorse Umane. Sono stata molto ottimista durante questa tavola rotonda e ho portato un'esperienza che noi riteniamo sicuramente molto valida, quella della creazione di una offerta didattico-formativa di lauree magistrali in lingua inglese che ci aiuta a portarci in maniera molto interessante verso l'estero e da ospitare tantissimi ragazzi provenienti da tutte le lauree triennali mondiali. Abbiamo delle bellissime community di cinesi, di indiani, di coreani, israeliani, abbiamo tantissimi ragazzi stranieri che frequentano i nostri corsi, così come questa forma di internazionalizzazione sulla didattica ci consente anche un abbrivio, direi, sull'internazionalizzazione naturalmente della ricerca con la costituzione di partnership, di collaborazioni sempre più strette che già abbiamo naturalmente. In questo siamo facilitati anche dai corsi con le altre università del mondo. L'internazionalizzazione agevola le occasioni di trovare lavoro e avere una brillante carriera anche all'estero. Questa internazionalizzazione procura una grande capacità attrattiva nei confronti degli studenti migliori che il nostro sistema universitario forma e vuole formare perché noi abbiamo dei corsi magistrali quindi riusciamo ad attrarre i triennalisti molto bravi su tutto il territorio nazionale e naturalmente quando riesce ad attrarre i migliori poi le aziende se li catturano, direi, molto velocemente. Si tratta di ragazzi che naturalmente hanno anche la lingua inglese come seconda lingua molto fluente, molto ben parlata, una preparazione di tipo internazionale e quindi a quel punto sono dei laureati per, direi, tutte le aziende che ormai vivono in uno spazio di mercato decisamente internazionale. Sia gli studenti stranieri che quelli italiani possono usufruire di agevolazioni. Noi offriamo decisamente un supporto di facilities nel momento in cui sono iscritti per tutto il loro percorso. Stiamo cominciando anche a aiutarli perché questo è necessario. Il sistema Italia offre poco dal punto di vista del servizio pubblico di supporto ad uno studente che venga non solo dall'estero su Roma ma anche da altre città romane quindi aiutiamo anche per l'housing, per l'ospitalità, riuscire ad inserirli anche in network che possano facilitare anche le attività culturali e di entertainment. Quindi c'è un supporto un po' alla persona, non solo allo studente in quanto studente. Oltre ai corsi di laurea è possibile specializzarsi con interessanti master. Noi abbiamo già da vario tempo, da vari anni, una offerta formativa post laurea di master di primo livello e di secondo livello. Siamo anche molto orgogliosi perché si tratta di master che ormai hanno tantissime edizioni. Io in particolare ne curo uno su economia e gestione della comunicazione dei media e alla decima edizione e noi sappiamo quanto difficile sia il mondo della formazione post laurea, quindi proposte didattico-formative che durino così a lungo in un mercato così anche opaco talvolta dimostra che le buone proposte didattico-formative sono sicuramente capite dal mercato degli studenti italiani e non solo.